Un utilitario arriva nel parcheggio di un centro commerciale, scende un uomo che apre il bagagliaio dell'auto e dopo aver buttato alcune buste di immondizia prende due cuccioli di cane e li adagia vicino ai cassonetti dei rifiuti. Quindi si rimette alla guida, si allontana, rincorso per qualche decina di metri dalle povere bestiole. Questo è il contenuto del video acquisito dai carabinieri della stazione forestale di Lioni, allertati da un passante che dopo aver notato i due cuccioli abbandonati non ha esitato a chiamare il 112. L'analisi delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza ha portato i militari all'identificazione del soggetto. Si tratta di un 62enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica di Avellino per il reato di abbandono di animali. I due cuccioli di razza meticcia sono stati visitati da personale sanitario dell'Asle Microcipati. Dopo l'affido temporaneo al direttore del centro commerciale sono stati dati in adozione ad una famiglia del posto. L'abbandono di animali è punito dall'articolo 727 del codice penale con l'arresto fino a un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, ricordano i carabinieri. In fondo il cane resta il miglior amico dell'uomo, anche se purtroppo non è sempre vero il contrario.